ciao allora oggi vi mostro queste ciglia finte della zoeva che io adoro mi sono piaciute davvero tante queste le ho davvero usate tanto vediamo se riesco a tirarle fuori dalla confezione così ve le faccio vedere meglio ecco sono molto molto distrutte e sono le nude lash 24 mi sono piaciute tanto ve ne prendo una allora sono quelle che vedete in tutti i miei video se non le avete viste vuol dire che sono talmente naturali che non ve ne siete accorti sono morbidissime vedete che sono morbidissime confortevoli e molto sottili quindi la parte che va attaccata è molto molto sottile io trovo che queste siano davvero valide vengono sui 5 euro ed è sul sito della zoeva oppure anche da douglas è bella la confezione perché ha il suo astuccio che si chiude e poi danno la colla in mini taglia questa qui che è una colla davvero potente mi piace e io sono abituata è una 0,5 ml come vedete l'ho finita ed è durata usandola per il video credo qualche mese quindi anche le ciglia e andate colorare le ciglia applicate con sopra mascara poi vado a rimuoverle vado a struccarle sono durate intatte per tanto tempo quindi sono davvero fatte molto bene la colla l'ho finita ma è molto potente io sono abituata alla duo che è molto famosa ed è non mi da nessun problema sugli occhi questa è uguale l'ho voluta provare è molto valida molto valida molto simile a due quasi quindi potete tranquillamente usarla anche se gli occhi sensibili potete usare la colla in dotazione e non dovete comprare un'altra se non ce l'avete io trovo che queste ciglia stiano abbiano un effetto molto naturale il prezzo è indicato perché secondo me qualcosa di meno di 5 euro le ciglia filter della zoeva sono resistenti naturali e hanno degli effetti le nude hanno un effetto molto naturale ci sono anche quelle ed è drama oppure quelle più vistose ce ne sono tantissime tutte fatte molto bene molto belle e io ve le consiglio almeno un paio provatele perché se siete amanti delle ciglia finte con queste non tornerete più indietro fatemi sapere se qualcuno di voi le utilizzate e come si trovate io ve le straconsiglio e spesso sta utile se vi è piaciuto il video mettetevi un like qui sotto e iscrivetevi al canale così non perdete le prossime accensioni ciao